È stato sentito in tribunale a Treviso dal GIP Silvio Mara, silbiologo marino Andrea Rismondo. Il 52enne di Preganziola, presidente e fondatore della SELC, attualmente ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sul MOSE, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Davanti al GIP, anche Federico Sutto, ex sindaco di Zero Branco e Braccio Destro di Giovanni Mazzacurati fino a dicembre del 2012, ha scelto di non rispondere alle contestazioni che gli vengono mosse. Domani a Ravenna, ad essere ascoltato dai magistrati, sarà invece un altro trevigiano, l'ex sindaco di Cessalto e funzionario della regione, Giovanni Artico. La famiglia assicura che le accuse mosse contro di lui sono congetture che ben presto verranno smontate, facendo partire le querele verso i suoi accusatori, ma intanto domani mattina Artico dovrà spiegare la sua versione dei fatti su quell'assunzione tirata in ballo negli interrogatori dei primi, finiti in manette lo scorso anno. E di querele oggi ha parlato anche l'assessore Renato Chisso, che al GIP, dopo aver respinto le accuse, ha annunciato l'intenzione di sporgere querele contro i suoi accusatori, baita e mazzacurati. Arresti che travolgono anche la marca, ma che hanno fatto discutere l'Italia intera, con economisti e editorialisti che si interrogano sul perché questo metodo sia andato avanti così a lungo, senza che nessuno se ne fosse accorto. Tutti innocenti fino in Cassazione, però se ci sono dei ladroni, in questo caso come in altri, questi ladroni sanno che il 98% dei condannati per corruzione, poi ci sono gli assolti, parlo dei condannati per corruzione, viene condannato a meno di due anni. Che paura vuoi che abbiano? Il fabilismo italiano a volte è a morale, io conto perché ho gli amici, poi è molto vicino agli amici, me li pago e vinco perché ho sempre qualche corrotto a mia disposizione. Nell'attesa di capire gli sviluppi dell'inchiesta e le responsabilità dei singoli coinvolti, rimangono le immagini, alcune indelebili, come quella della busta, scambiata nella pizzeria di Marghera il 27 maggio 2011, tra Nicola Falconi e Pio Savioli della Coveco, dentro, secondo la finanza, c'erano i contanti dei fondi neri.